ok benissimo, buongiorno a tutti se come sempre qualcuno mi dà solo un feedback sul fatto che si sente quindi sulla chat mi scrive solo che sta sentendo poi aspettiamo ancora un attimo in maniera che tutti abbiano il tempo di collegarsi quindi si sente, ok perfetto, grazie mille ok 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 intanto verifico se c'è qualcuno che ancora su Slack ha fatto qualche domanda facciamo di recente facciamo una domanda sull'esame ok ok allora dunque siamo in questo momento 28 come sapete questa lezione interattiva è videoregistrata quindi non ci sono problemi a questo punto di vista e l'obiettivo di questa lezione è quello di andare a discutere di eventuali dubbi e domande relativi all'esame con particolare riferimento al primo tema d'esame che è quello appunto richiesto per chi vuole sostenere l'esame al primo appello purtroppo non c'è il nostro collega, il mio collega Luigi De Russis che ha avuto un imprevisto all'ultimo momento quindi non riuscirà a collegarsi però insomma spero di riuscire a darvi tutte le informazioni necessarie magari nell'attesa che si colleghino tutti vi dico quello che in realtà penso dovreste sapere già quindi sul nostro solito sito internet del corso quindi media politici slash aw1 abbiamo da ieri diciamo tutto il necessario quindi ci sono in particolare due documenti nuovi uno le domande frequenti riguardo alle regole d'esame queste di tipo generale che si applicano a tutti gli appelli e poi c'è un documento online online nel senso che semplicemente questo c'è è un documento Google Docs condiviso tra me quindi il corso in italiano e il corso in inglese che diciamo su cui mettiamo tutte le risposte alle domande che ci verranno poste in particolare via slack come già avete fatto in parte così abbiamo tutto in un unico posto per quanto riguarda diciamo il singolo appello e dovrebbe anche essere più facile per voi leggere tutte le risposte prima di tutto questo documento è condiviso come abbiamo scritto tra italiano e inglese quindi in realtà c'è prima la parte in inglese che è molto più grossa di quella in italiano semplicemente perché gli studenti del corso in inglese hanno posto ben più molto più domande quindi se ponete domande si allungherà anche la parte in italiano ecco vorrei richiamare la vostra attenzione soprattutto sulle prime diciamo tre risposte a diciamo a nessuna domanda nel senso abbiamo deciso di scriverle noi qui la prima è il cosiddetto principio KISS che mantenete le cose semplici quindi cercate di non complicarvi la vita da soli riteniamo che il tema adesame sia già complicato a sufficienza non è il caso di aggiungere caratteristiche che lo rendano ancora più complicato quindi piuttosto se avete dei dubbi appunto scrivete su su Slack se quella caratteristica è richiesta oppure no tendenzialmente se non è richiesta in maniera esplicita o si desume dal contesto del testo del 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 progetto non è richiesta quindi quindi se non c'è qualcosa che è esplicitamente richiesto nel testo o che è conseguenza di quello che è richiesto nel testo non è richiesto di implementarlo ovviamente come in tutti i temi di programmazione di progettazione ci saranno delle cose che si possono fare in diversi modi e in questo caso potete scegliere la maniera che più ritenete opportuna e generalmente la maniera più semplice è quella che vi consigliamo perché appunto non stiamo riscrivendo facebook stiamo semplicemente facendo un cercando di sviluppare un progetto secondo le specifiche che sono state fornite e che usa più o meno le varie caratteristiche del framework di javascript che abbiamo visto nel corso e diciamo che deve dimostrare questo non deve dimostrare che siete in grado di costruire un facebook intero non è che c'è da complicare il progetto solo per far vedere che uno è più capace di fare cose eccetera l'abbiamo scritto più volte anche nelle altre domande non è che per delle caratteristiche addizionali possiamo darvi dei punti e soprattutto non è che queste caratteristiche addizionali che vi inventate possono compensare per eventuali problemi errori presenti all'interno del progetto quindi questo è anche vostra come dire salvaguardia nel senso che non è che perché uno si è messo a implementare una cosa che si è pensato io implemento l'app per fare i pagamenti più complicate eccetera controllo non so cosa non è che questo appunto mi fa avere dei punti in più se no tutti farebbero quello che vogliono e non si segue più il tema d'esame se scorrete il documento avete appunto le domande diciamo che avete posto finora sullo slack sul canale in italiano e di nuovo cerchiamo cercate di mantenere il diciamo il progetto il più semplice possibile per esempio tanto per dire l'ultima domanda chiedeva se uno viene fuori Fiat Panda Fiat 500 eccetera deve poter scegliere Fiat Panda Fiat 500 non abbiamo chiesto quindi se uno vuole può fare tutto quello che vuole però ciò che non è richiesto non può essere considerato quindi dobbiamo prendere una vettura del segmento A della categoria A categoria B eccetera fatto quello non è che ci devono dare perché noi abbiamo chiesto la 500 per forza la 500 e così via cioè dovete ispirarvi cioè dovete seguire quello che c'è scritto non dovete ispirarvi necessariamente a un ultimo sito dove avete affittato una macchina perché se no non finite più allora rifacciamo appunto Facebook Amazon e così via ok io direi che se avete dubbi o domande potete scriverli sulla chat oppure intervenire a voce dovreste poterlo fare direttamente io ho abilitato buongiorno buongiorno sì mi dica puoi fare una domanda molto di carattere generale diciamo visto che anche la prima volta che utilizzo GitHub in maniera così abbastanza seria non l'avevo mai utilizzato volevo chiederle cosa come bisogna fare diciamo per scaricare lo scheletro sì io ho semplicemente fatto il clone della cartella quindi mi sono scaricato lo zip e basta può bastare così oppure devo fare altro no allora il clone è una cosa diversa dallo zip io mi sono consultato col professor Corno ci siamo chiesti se dovevamo spiegare diciamo in maniera molto più approfondita queste questioni git eccetera lui mi ha detto che dovreste averlo visto nel corso di software engineering giusto sì che però ce l'avevamo questo semestre l'abbiamo fatto due settimane fa la lezione ok quindi sarebbe l'equivalente di quello che potremmo fare noi in questo momento comunque molto brevemente noi usiamo git in maniera molto semplice semplice nel senso che come ha fatto lei adesso si è iscritto secondo le istruzioni no quindi ha un account github adesso questo quindi ha il suo account github no ecco le istruzioni quindi rivediamo insieme la procedura così ok ha il suo account github che ha registrato no col nome che vuole tutto quello che vuole deve usare il link che abbiamo sia autentica no poi usa il link che abbiamo fornito che è questo link per scheletro progetto no cosa che mi pare di capire ha già fatto no quindi questo link vi porta sul su github classroom vi chiede di autenticarvi con lo username e la password di github dell'account che avete appena creato o dell'account che avete dopodiché dovete scegliere dovete scegliere il vostro nome e cognome della lista quindi vi verrà fuori una lista adesso cerco di farlo più grande quindi vi verrà fuori una lista di nomi in cui dovreste esserci se non ci siete dovete scrivermi un'email perché vuol dire che qualcosa è andato storto ma l'abbiamo preso dagli iscritti del corso quindi dovrebbero esserci tutti una volta che l'avete scelta questa operazione è da fare un'unica volta tra l'altro anche doveste sostenere più esami eccetera il vostro account github è collegato a questo sistema del github classroom quindi al corso diciamo così di applicazioni web 1 fatta questa operazione che impiega una decina di secondi qualcosa di questo tipo voi avete un repositor github vostro privato quindi che potete vedere solo voi più noi docenti dal quale potete andare a scaricare lo scheletro del progetto ed è quello che ha appena fatto il vostro collega che ci parlava un attimo fa una volta che avete scaricato questo scheletro potete lavorare quindi fate tutto quello che volete tra l'altro questo scheletro è particolarmente semplice ci sono due cartelle il file readme giusto per dare un'indicazione di quello che va scritto e basta e quindi fondamentalmente dovete sviluppare il codice del server nella cartella server secondo le istruzioni quindi nel server usare express eccetera nel client usare create react app eccetera come abbiamo sempre fatto una volta che avete finito dovete fare il commit di tutto il push di tutto il push è quell'operazione che trasferisce ciò che avete sul computer locale sul server github e alla fine quella operazione di fare il tag per comunicarci che intendete sostenere l'esame perché semplicemente potreste scaricarlo provarlo vedere che non ci rinunciate non volete fare questa appella aspettate il secondo motivi vari non volete farlo e così noi siamo in grado di capire che voi quello che avete messo lì non lo volete consegnare ok per fare le operazioni con il git è necessario aver clonato il repository come diceva prima il vostro collega lui ha detto ho clonato il repository ho scaricato lo zip attenzione che non è la stessa cosa clonare il repository significa fare l'operazione proprio di clone come dovreste aver visto appunto diceva due settimane fa quindi se noi andiamo nel git adesso io qui ne prendo uno ecco tolgo l'ultimo giusto perché dovrei averlo nei comandi quindi non basta scaricarsi lo zip nel senso per vedere le cose va benissimo scaricarsi lo zip facciamo git tab no git scusate clone e poi dobbiamo andare a prendere l'url di quello che vogliamo scaricare io adesso qui prendo che so lab 10 ma giusto per fare una prova voi avrete il vostro repository che vedete dall'interfaccia web quando siete autenticati con il vostro account e qui avete la possibilità di fare il download e lo download va bene per dare un'occhiata però per lavorarci dovete prendere l'url che tra l'altro è sempre lo stesso e fare il clone quindi basta alla fine vi trovate una cartella come quella dello zip no la differenza è che in più ci sono tutti i file di git che vengono mantenuti automaticamente da git che vi serveranno per fare l'operazione di commit e push e tag se la fate di qui e non la fate poi dall'interfaccia web intanto sto vedendo che ci sono delle altre domande sulla chat finisco solo questa spiegazione del git che penso sia importante per tutti nel momento in cui avete finito fate il commit mettete il tag fate il push e la vostra consegna è terminata potete anche andare a verificare dall'interfaccia web qui che cosa che cosa si vede perché è il vostro repository il vostro repository sul vostro github ed è un repository privato vostro quindi voi mettete username pass e entrate e vedete tutto quello che volete quindi potete verificare dall'interfaccia web che cosa avete fatto cosa è stato caricato quali file ci sono e così via così vi assicurate di non aver dimenticato nulla e così via la cosa che vi consiglio è nel momento in cui avete consegnato tutto fate un un clone oppure scaricate con lo zip e il contenuto del vostro repository in una nuova cartella e provate a farla funzionare come faremo noi per valutare l'esame così vi assicurate che tutto ci sia tutto funzioni tutto si veda e non manchi nulla quindi fate lo zip fate e l'npm install per tutto le due cartelle client e server separatamente lanciate il server node server o node mon server js il comando che abbiamo scritto e quindi se c'è node mon vuol dire che bisognerà aver installato anche node node mon sul client farete npm start e poi provate se funziona se funziona vuol dire che avete consegnato tutto tutto quello che dovevate è finito se non funziona andate a cercare che file avete dimenticato ho fatto un ulteriore commit e conseguente push e col tag quindi intanto per rispondere a qualcuno che sulla chat ci chiede durante lo sviluppo possiamo fare diversi push potete fare tutti i commit tutti i push che volete tanto noi prendiamo l'ultimo quindi potete usarlo anche come repository di lavoro noi non andiamo a vedere la storia non ci interessa prendiamo l'ultimo lo usiamo in questa maniera semplicemente perché appunto a parte che l'abbiamo usato per tutto il corso a parte che lo riteniamo importante come strumento anche futuro perché molti oramai usano questo genere di strumenti per lo sviluppo in ambito anche aziendale e così via e appunto ci sembrava relativamente comodo e ben funzionante quindi potete usarlo come sistema di sviluppo se volete se no scaricate lo zip all'inizio lavorate tutto per conto vostro quando avete finito però dovete fare tutta la procedura che vi dicevo clone copiarci dentro i file fare il commit il tag il push e basta e verificare che tutto funzioni ok quindi questo è il meccanismo vi raccomando solo ma come queste sono regole diciamo non regole raccomandazioni di buon senso non aspettate l'ultimo giorno perché l'ultimo giorno poi se c'è qualcosa che non va non riusciamo a sistemarlo magari in tempo per esempio è successo con uno studente che per qualche motivo non si riusciva a collegare non riusciva a clonare questo repository dopo aver collegato il suo account eccetera abbiamo risolto credo però che fosse perché aveva un account GitHub particolarmente vecchio adesso GitHub consente di creare a tutti dei repository privati siccome il repository che andate a creare è privato perché così è solo vostro e i vostri compagni e nessun altro può vedere che cosa state facendo credo che o dovete andare a impostare qualcosa nel vostro accanto oppure ne hai creato uno nuovo anche solo per questo esame e questo dovrebbe risolvere il problema se ci sono dei problemi col collegamento col vostro nome mi scrivete in privato con un'email e vediamo di risolverli come abbiamo fatto per esempio ieri per un vostro collega quindi spero di aver risposto a tutto il vostro collega che prima ha parlato a voce poi adesso vado nelle domande sì grazie ok perfetto grazie a lei che ha fatto la domanda è importante sapere come funziona il meccanismo ci sono le istruzioni su come collegare il vostro account che erano quelle che stavamo vedendo prima quindi fit with quindi c'è da accettare l'assignment e vi verrà creato automaticamente questo repository e basta quindi se in certe cose magari capisco che uno non sia così comodo comodo a lavorare con i comandi git del terminale ma appunto si può si può certe cose si possono fare anche nell'interfaccia web come per esempio il tagging e così via l'abbiamo scritto nelle fac come si fa a farlo nell'interfaccia web che peraltro è particolarmente semplice vado a leggere un po' di domande sulla chat quindi così che non ci perdiamo nulla torno su dunque quanto è importante l'estetica del sito diciamo nel momento in cui il sito diciamo è ragionevole è ragionevolmente utilizzabile noi non stiamo a valutare l'estetica del sito abbiamo però diciamo fin dall'inizio insegnate ad usare un framework CSS proprio perché non vorremmo che vi preoccupaste di questi aspetti ma allo stesso tempo vorremmo avere qualcosa di ragionevolmente non voglio dire bello ma diciamo utilizzabile e ben fatto usare gli stili di default di un framework CSS è più che sufficiente quindi non è che uno deve per forza mettere andare alla ricerca dell'immagine vabbè se uno vuole mettere un'immagine di sfondo l'immagine non so di una macchina giusto per rendere il sito proprio non così anonimo però non è richiesto che ci siano le immaginine delle macchine che dobbiamo noleggiare non è richiesto che appunto ci siano chissà quali icone certo nel momento in cui devo fare un'operazione di cancellazione oppure di inserimento se c'è un'icona che avete visto è particolarmente semplice da da tirar fuori da un framework CSS come bootstrap e così via ecco quello ce l'aspetteremo no il fatto che ci sia chissà quale ricercatezza nella grafica no e come tutte le altre caratteristiche non richieste non verrà valutato quindi diciamo che ci sono appunto delle best practice come abbiamo scritto più volte se c'è una barra di navigazione deve stare da qualche parte non in mezzo al sito perché altrimenti non è più una barra di navigazione è una cosa che dà fastidio però queste sono tutte indicazioni di buon senso quindi non le chiamerei estetica le chiamerei funzionamento corretto dell'applicazione ok passo alla domanda successiva nel testo anche se nel testo non è specificato dobbiamo utilizzare le root seguendo il pattern visto lezione ovvero per ogni filtro selezionato visualizzare una root diversa no allora intanto il filtro noi avevamo detto che i filtri possono essere dei parametri dell'url qui quello che mi ha scritto nell'esempio questo collega mi ha scritto esempio adesso lo riporto un collo qui sul terminale perché in questo momento non ho aperto niente altro però se se mi mette slash qualcosa questo non è nel rest questo dovrebbe essere un identificativo o per fiat categoria eccetera direi che dovrebbe essere una cosa tipo punto interrogativo qualcosa no se vedete voi se se è necessario oppure no diciamo sono sono aspetti che dovete valutare voi nel senso che se vi viene diciamo automaticamente nel momento in cui implementate le root perché no se dovete scrivere tanto codice per realizzare questa funzionalità per esempio state facendo il filtraggio lato client e quindi sarebbe solo del codice addizionale a scrivere per far tirar fuori questa root con i parametri eccetera non mi sembra per caso molte di queste domande non hanno una risposta categorica no cioè si no bisogna vedere cosa cosa fate appunto se non è richiesto noi richiediamo queste best practice che ci rendiamo conto che non sono così ben definite però almeno come dire escludono dei comportamenti diciamo del tutto al di fuori del tutto estranei alle single page application cioè non si può ricaricare la pagina tutte le volte che cliccate su qualcosa ecco questo questo è un comportamento al di fuori delle best practice bloccare tutto mentre sta facendo una richiesta al server di nuovo queste cose come appunto per ogni filtro una root noi abbiamo fornito degli esempi anche nei laboratori abbiamo fatto così perché il filtraggio veniva fatto lato lato server nel momento in cui fate lato client potete diciamo decidere se volete continuare a usare una cosa di questo tipo oppure no io magari questa domanda la pongo anche sulla chat che ho col professor corno così dell'altro corso così stiamo allineati ok vado avanti per semplicità di implementazione di filtri sul catalogo possiamo applicarli lato client alla lista di auto ritornata al db piuttosto che fare ogni volta la query sul db come è fatto nei laboratori io direi di sì nel senso che sì appunto come dicevo prima mi sembra accettabile ecco chiaramente è una cosa che non scalerebbe in maniera eccessivamente buona nel momento in cui avessimo tantissime auto eccetera però di nuovo dobbiamo non stiamo chiedendo di rifare amazon o il sistema di prenotazione di un di un'azienda multinazionale no stiamo cercando di capire se avete la capacità di usare quello che abbiamo imparato a lezione in una maniera che sia efficace per realizzare per risolvere questo genere di problemi quindi io direi di sì dei push durante lo sviluppo abbiamo detto può fare quello che vuole in realtà il push è semplicemente la copia dal suo computer al server i commit se forse intendeva i commit ovviamente può fare tutti i commit che vuole può fare i branch che vuole eccetera l'unica cosa è che noi andiamo a prendere il branch master cioè quello che viene creato automaticamente di default se non fate niente di particolare e col tag final per assicurarci che sia un progetto che volete consegnare sì quindi l'importante è che tagliamo l'ultimo come regole d'esame possiamo pure lavorare in locale puoi caricare tutto sul git alla fine sì certo l'unica cosa appunto non aspettate l'ultimo minuto quindi non so almeno il giorno prima della scadenza provate a caricare qualcosa in maniera che se ci sono dei problemi potete risolverli diciamo con tranquillità vi consiglio però di registrarvi già da adesso se avete intenzione di sostenere il primo appello sul github classroom in maniera da avere questo template e avere già il vostro utente collegato eccetera in maniera che quando poi c'è da caricare le cose non è che c'è il problema dell'account che non si collega eccetera eccetera abbiamo il tempo di risolvere e voi intanto potete lavorare localmente potete anche farlo senza scaricare il template io ve lo sconsiglio ma in realtà come abbiamo detto nel template ci sono tre cose c'è un file readme e ci sono due cartelle vuote quindi voglio dire non è che avete neanche più di tanto bisogno di questo template il template scaricare il template vi serve per assicurarvi che tutto il sistema funzioni e non aspettare l'ultimo giorno per chi ha già scaricato lo zip e iniziato a lavorare lì cosa può fare per rimediare dunque semplicemente si mette in una nuova cartella fa il git clone come abbiamo fatto noi qui quindi fa il git clone e poi prende il file e li copia dentro la nuova cartella avrà dei file js delle immagini non so tutto quello che ha fatto lo copia con la stessa struttura dentro la cartella basta quindi è semplicissimo se vuole può fare il commit di quei file fare un push tanto per provare tanto il suo repository può fare tutto quello che vuole noi andiamo a vedere solo l'ultima versione cioè è vero che abbiamo accesso a tutto quanto però non è nostra intenzione fare questa operazione quindi possiamo lavorare direttamente sul master sul branch sì sì certamente fate come siete comodi voi nel senso che appunto questo non è l'esame relativo al git hub o al git ha interesse che ci sia la consegna lì appunto va fatto l'adattamento dell'interfaccia alla risoluzione mobile diciamo che questo questo dovrebbe venirvi un po' gratis dal dal sito cioè dall'uso del framework la pongo anche sulla chat col professor corno che intanto starà parlando quindi ci vorrà un attimo prima che mi arrivino delle risposte però quindi questa è un po' più aperta diciamo che noi lo testiamo su computer desktop certo che se mi richiedete che abbia uno schermo che sia 3000x2000 pixel ecco questo non va bene però su un browser in cui ci sia un ragionevole spazio senza arrivare magari al full hd però un browser aperto a mezzo schermo ecco che ci stiano le cose in quel caso quindi perché è chiaro c'è questo configuratore ci sono dei campi di un form eccetera deve esserci spazio per vederli ecco però non è che andiamo specificatamente a cercare il fatto che se vado a vederlo sul dispositivo mobile versione vecchia eccetera e non si vede più sparisce il menu eccetera non è l'obiettivo dell'esame certo poi abbiamo anche visto che se uno vuole col frame css si fa in fretta a dire vabbè magari il menu si trasforma da solo e così via ma non è richiesto di nuovo una di quelle cose che non è richiesto adesso aspetto poi anche la risposta del professor Cono se c'è qualche aggiornamento ve lo dico ma secondo me no non ho ben capito come dovrebbe funzionare il pagamento cioè dobbiamo associare una carta ad un utente con un tutti i soldi e vedere poi se i pagamenti vanno a buon fine facendo quindi il risultato no no è molto più semplice di nuovo cerchiamo massima semplicità ha semplicemente un API sul server in cui riceve tre parametri nel testo avevamo scritto riceve l'informazione questi tre parametri un numero di carta di credito che mi raccomando non è necessario sia vero e soprattutto non è necessario sia il vostro quindi 16 cifre il valore da debitare 50,00 euro e dunque ah no nome completo quindi mettete un nome un numero di 16 cifre e un codice forse era ccb vabbè comunque è tre cifre quindi quindi sono tre numerini anzi scusate una stringa e due numerini e li passate come a un qualsiasi API post no quindi un body json con queste tre informazioni l'API risponde l'API punto i soldi ci sono sempre non andiamo a cercarci soldi non dobbiamo mantenere i soldi non quanti soldi ci sono sulla carta eccetera no la nostra API risponde sempre che va bene senza tenere traccia del conto dell'utente no non c'è scritto quindi no è semplicemente perché vogliamo avere diciamo così una transazione verso il server per confermare il fatto che abbiamo concluso l'operazione cioè prima di dare l'ok dovete attendere una risposta del server che dica ok che poi sarà sempre ok però bisogna attenderla come si farebbe in un'applicazione vera per quanto riguarda la validazione del form con che livello di dettaglio bisogna farla ci basta verificare che vengano riempiti tutti i campi o dobbiamo fare anche una verifica più accurata come ad esempio data inizio noleggio minore data fine noleggio no allora bisogna fare una validazione ben fatta cioè questa è parte di ciò che non è esplicitamente scritto però diciamo ci si aspetta no come faccio a fare una prenotazione di una macchina di un'auto per il dal 20 giugno al 18 giugno no non si può no quindi questo è un controllo che ci aspettiamo che so adesso sto guardando se c'erano qualche altre beh che non ci sia meno un guidatore addizionale no cioè queste cose di buon senso ma parte di queste cose vengono abbastanza naturali quindi appunto bisogna bisogna fare della validazione su questo form no è parte del codice che vorremmo che scriveste in questo in questo in questo esame quindi non si registra sul db la carta di credito il cliente o l'hash no 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 forse c'era già anche in una delle risposte nelle fac non c'è da ricordarsi nessuna carta di credito è proprio semplicemente un un api non so chiamiamola paga in cui c'è una risposta ok hai pagato e di conseguenza poi da qualche parte in qualche maniera dovete poi registrare il fatto che questo non è già avvenuto no però questo di nuovo è una cosa di quelle che bisogna capire dal testo nel senso che ho pagato e di conseguenza tentate di pagare immediatamente non a prima conferma la prenotazione e poi è chiaro che una prenotazione diventa un affitto nel momento in cui avete pagato ok non so se ecco qualcuno io adesso se non vedo altre domande parlo io ma in realtà appunto vi parlo di cose che sono già state chieste quindi trovate già la risposta nel nel file online quindi questo qui quindi il configuratore deve essere interattivo qualcuno ha chiesto se può essere che ogni volta che clicco una cosa vado vado a mandare le informazioni sul server eccetera insomma deve cioè non può essere un configuratore statico diciamo così cioè prima clicco anzi scusa non è mandare le informazioni sul server prima clicco tutte le mie opzioni e poi dico c'è c'è va bene no non è quello che vogliamo d'altronde React ci fornisce proprio uno strumento per fare in maniera molto dinamica questa operazione ed è quello che vorremmo vedere nella soluzione dell'esame bisogna impedire all'utente di sottomettere il form o va bene anche far ritornare un messaggio di errore del server diciamo che le best practice direbbero diciamo che bisognerebbe fare entrambe le cose quindi impedire all'utente di sottomettere il form però è chiaro che come abbiamo fatto vedere la validazione va rifatta lato server quindi io è vero che posso impedire di sottomettere un form in cui la data di fine è prima di quella di inizio però se qualcuno me la manda lo stesso sul server mi incricca l'applicazione quindi questo non va bene bisogna rifare questa validazione lato server non è che ci sarà da validare chissà quanto è perché voglio dire alla fine certi sono fondamentalmente dei flag e sono decisi dall'utente quindi tipo beh questa diciamo è una cosa a tre valori numeri chilometri cioè se siamo in una delle tre condizioni poi di nuovo questo ha tre valori oppure due flag però occhio che non può essere inferiore a 25 superiore a 65 contemporaneamente guidatori addizionali si no assicurazione extra si no ecco questa è una cosa che deve essere controllata poi sul server in qualche maniera il cliente frequente pure è automatico quindi resta resta la categoria va bene e resta resta le date come dicevamo prima quindi chiaro che il form è uno degli aspetti più critici di qualsiasi applicazione web e quindi ci aspettiamo che nel form mettete la dovuta attenzione ecco questo si le informazioni che informazioni deve vedere l'utente non logato solo le varie macchine o anche quante ne restano dunque abbiamo scritto possono navigare l'intero insieme di veicoli filtrando per categoria e marca quindi in realtà questo rientra in quello che non è stato specificato quindi mi verrebbe da dire la soluzione è più semplice quindi non è richiesto di vedere quante ne restano no quindi non è necessario però le macchine si quindi navigare l'intero insieme dei veicoli quindi ci sarà scritto marca e modello quindi chiaramente categorie e marca dobbiamo vederle perché fanno parte del filtro e modello stringa dicevamo prima 500 panda non so adesso non so più vabbè dei nomi qualsiasi la tipo la uno non lo so mettete quello che vi pare una stringa no per mettere dei modelli audi a4 non lo so mercedes b b200 si che so non lo so ma non ne servono tantissime no vabbè abbiamo chiesto 25 forse no però non è che devono essere per forza tutte diverse possono anche essere uguali quindi quindi io filtro e quindi c'è questo filtro scelgo categoria scelgo marca e deve venire fuori la lista dei diciamo dei veicoli quindi quante ne restano non è richiesto se vuole farlo si può però è una complicazione aggiuntiva no cioè tutto quello che uno vuole fare in più non è che sia vietato però poi non è che uno può venerci a dire l'esame era così complicato ci ho messo tre settimane cioè certo se fai il triplo del lavoro ci metti di più ok purtroppo ho potuto accedere alla virtual custom solo adesso la registrazione verrà caricata sul portale si è già in corso la registrazione che comparirà sul portale ci vorrà qualche ora perché il portale ci mette questo tempo io sto facendo anche la mia come di consueto quindi adesso penso che anche per il suo corno la metterà su youtube quindi penso che la metteremo su youtube comunque ci sarà entro oggi io credo che ci sarà non ho utilizzato non ho utilizzato lo scheletro del progetto che è stato caricato solo che mi sono accorto che nel crearlo con create react app non mi ha creato le cartelle git ignore dunque il git ignore che in realtà forse è più un file che una cartella comunque serve semplicemente al git per dire di non aggiungere certi file quando fate add e poi fate il commit perché per decidere di quali file fate il commit dovete dirlo a git se lui ha questo file automaticamente certe cose sono escluse tipo tutta la cartella node modules tutto ciò che non serve quindi semplicemente può prendere quel file e copiarselo nel suo progetto oppure fa il contrario come dicevamo prima c'è qualcuno che ha iniziato a lavorare scaricando lo zip si fa il clone così scarica tutto il progetto come il template che abbiamo messo a disposizione e copia i file che ha già fatto lì dentro e lì continua a lavorare non c'è nessun problema ci sono dei file tra l'altro non saranno neanche tanti c'è un file SQLite un po' di file javascript del server il package json aggiornato perché quando fate nel pm install si aggiorna il package json con i nomi dei nuovi pacchetti che avete messo e poi i file del create react app ma senza il node modus che vi viene ricreato automaticamente quindi fate attenzione a non caricare il node modus sul git ma più che altro per voi perché caricate cioè poi è un po' sbagliato concettualmente nel senso che appunto sono è come caricare tutte le librerie nel vostro progetto in realtà nel sistema di controllo di versione volete mettere i file che sviluppate voi non tutto il resto tutto il resto si può andare a prendere e scaricare e poi appunto essendo 300 mega utente diciamo diventa scomodo anche per voi fate un mpmista se aggiornano qualche pacchetto e di nuovo vuole riaggiornare tutto eccetera quindi non c'è nessun problema se cioè alla fine credo che sia meglio che utilizzate lo scheletro perché così siete sicuri di non esservi scordati in nulla però dicevamo prima lo scheletro è così semplice che fondamentalmente nello scheletro c'è il readme e poi vabbè il git ignore ma fondamentalmente lo potete fare anche voi oppure lo copiate e serve solo ad evitare di mettere sul git cose che non servono allora quindi anche la parte di noleggio deve essere interattiva cioè man mano che l'utente completa i campi del form deve essere visualizzato il numero di veicoli che soddisfano i criteri sì sì questo sì 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 infatti è la pagina di configurazione interattiva sì non capisco perché dice anche nel senso cioè questa è sicuramente interattiva cioè questa è scritta esplicitamente la pagina dovrà mostrare interattivamente il numero di auto disponibili che soddisfano i criteri il prezzo di noleggio il prezzo di noleggio è considerato i vari fattori eccetera eccetera cioè questo mi verrebbe di dire è la parte probabilmente una delle parti più importanti di questo progetto se non fate questo credo che è difficile prendere la sufficienza ecco perché appunto è qui che c'è da ragionare da ragionare come mantenere informazione nell'applicazione come fare a ragionare la visualizzazione eccetera è proprio qui che è la parte diciamo significativa del progetto dal punto di vista di come funziona una single page application poi è vero c'è anche un'altra parte significativa che è la comunicazione con il server lo sviluppo dell'API eccetera però se non c'è questa cosa interattiva cioè allora fondamentalmente stiamo facendo un'applicazione vecchio stile in cui facciamo un click un altro un altro poi sottomettiamo il server e è il server che fa tutta l'operazione e non è il concetto della single page application quindi mano a mano che l'utente completa i campi del forno deve essere visualizzato il numero di veicoli che soddisfano i criteri sì infatti c'è scritto quindi è chiaro che per fare questa operazione per avere il numero di auto che soddisfano i criteri dovete in qualche maniera o avere la lista sul client o andarla a chiedere al server questo sta a voi decidere per quanto riguarda il numero di auto nel DB io ho pensato di aggiungere un campo per contare quante ne restano di quel particolare modello in modo tale da non dover ripetere più volte dati molto segni nel DB evitare di mostrare più volte la stessa auto nella lista pubblica sì diciamo questa è una cosa che lascerei alla vostra decisione nel senso fatte come come ritenete quindi dovreste essere in grado di pensare a una struttura di un DB che avrà non so 3 o 4 tabelle che ci mantenga l'informazione che serve per la nostra applicazione quindi deve decidere lei se appunto vuole mantenere mettiamola così una riga una riga nel DB per ogni auto oppure aggregare le auto che però diciamo ogni soluzione ha sempre i suoi vantaggi e svantaggi con una riga per ogni auto avrà un identificativo dell'auto e quindi rimane più facile gestire i noleggi per la singola auto se ha un'unica riga per tutti gli modelli dello stesso tipo puoi gestire gestire i noleggi diventa complicato con le date perché poi ogni volta devi andare a controllare che in ogni periodo non ci siano noleggiate più auto dello stesso cioè più auto di quanto ne ha a disposizione però questo è un problema di tipo decido come fare il database semplifico da una parte e complico dall'altra e viceversa complico nel senso mantengo più righe cercate come dicevamo all'inizio di usare la soluzione che è più semplice quindi in questo caso io penso che sia più semplice avere una riga per ogni auto però mettiamola così per ogni targa non è richiesta la targa però per ogni identificativo di auto perché credo che sia la cosa più semplice però di nuovo potete farlo come volete e sta a voi decidere cosa ritenete opportuno evitare di mostrare più volte la stessa auto nella lista pubblica voglio dire non è che sono due righe di codice non deduplicare le auto quindi se hanno lo stesso nome stessa stessa categoria stessa marca stesso nome mi ha mostrato una sola però appunto non è che voglio dire si fa così e si fa diverso perché perché appunto non non ha non ha tutta questa importanza dovete decidere voi come volete fare per ogni combinazione la pagina dovrà mostrare interattivamente il numero di auto disponibili per numero di auto disponibili si intende la somma dei veicoli di ogni modello sì sì quindi noi in realtà scegliamo la la categoria quindi in realtà è il numero la somma dei veicoli di ogni modello e marca non è esplicito come gestire i veicoli personalmente avevo pensato a due possibilità devo decidere in base a come mi verrà più semplice farlo ogni veicolo distinto oppure accorpare i veicoli di stesso modello e mettere un attributo che ne indica la quantità diciamo lato interfaccia ci basta sapere quanti perché abbiamo detto c'è anche nelle FAQ non è che io posso scegliere prendo la 500 o prendo la panda o prendo la non so la la tipo la la 1 e così via appunto cosa c'è adesso cioè non siete diciamo al banco di un di un noleggio autovero e vi dicono guardate o la 500 o la panda quale vuoi è tutto bellissimo da fare ma per voi usate la soluzione che vi fa faticare meno potete fare tutto quello che volete in più ma non viene valutato e faticate tanto quindi qui è voglio un'auto di categoria A ci sono 5 auto ok va bene configura clic 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 viene un prezzo va bene clic riservo un'auto di categoria A punto poi va bene nell'ultima pagina nel momento in cui mi dite ok ti ho riservato l'auto se volete ci scrivete anche ti ho riservato la Fiat 500 che ne so però non è che l'ho scelta non è che ho dovuto dire che c'era la 500 la panda eccetera no nella diciamo nel momento in cui facciamo la navigazione va bene anche perché lì mi sembra relativamente facile nel momento in cui dobbiamo scegliere abbiamo detto che non è necessario scegliere cioè non c'è scritto che devo poter scegliere se la 500 la panda eccetera e la cosa che bisogna fare è che se non ce ne sono non posso sceglierla ecco questo si nel senso se l'auto di categoria non c'è non è che poi mi fai andare avanti me la me la prenoti perché non c'è quindi quando il cliente sceglie se non leggere o meno gli viene assegnato un autorando nella categoria scelta si mette quella come occupata sì esatto random quello che vi viene comodo nel codice l'importante è che sia la categoria scelta un'altra domanda per meno 10% dei veicoli rimasti in grado nei giorni di noleggio si intende l'intervallo per cui si richiede il noleggio sì però nell'intervallo il numero potrebbe essere variabile o si intende nel giorno in cui viene fatto il pagamento io direi che mi avrebbe da dire questa è la posto di nuovo per il starcorno anche mi avrebbe da dire che bisognerebbe controllare il periodo quindi per ogni giorno andare a vedere quanti quanti veicoli ci sono e se si scende sotto il 10% allora costa e chiaramente per fare questa operazione vi servono entrambe le date è vero che sentiamo sentiamo poi cosa ne pensa anche il professor con giusto per avere le stesse specifiche italiano-inglese ma a questo adesso ce ne diamo una risposta lo metteremo sicuramente nelle FAQ questo così almeno tutti hanno la stessa implementazione mi viene da dire non è un aspetto estremamente critico quindi se uno non mi fa il configuratore ecco non va bene il configuratore interattivo se uno ha interpretato diciamo la disponibilità solamente nel giorno in cui inizia il noleggio anziché tutti i giorni è vero che si è un po' semplificato la vita però diciamo non è una cosa così tragica ecco come non fare una parte sostanziale dell'applicazione però su questo sicuramente adesso se riusciamo a non faremo vi darò la risposta durante questa sessione altrimenti ci sarà poi nelle FAQ sicuramente così almeno abbiamo una risposta per tutti perché in effetti questo anche se in realtà abbiamo scritto nei giorni del noleggio quindi a me verrebbe da dire bisogna controllare tutti i giorni però aspettiamo conferma cioè conferma aspettiamo di metterci d'accordo lo chiedo perché ad esempio l'utente riempie il campo dato guidatore addizionale prima della categoria dell'auto ci sarebbero problemi nel calcolo del prezzo dovrebbe essere visualizzato in quel caso visualizziamo semplicemente prezzo zero ecco questa è una domanda che già nelle FAQ per calcolare il prezzo avete bisogno di tre informazioni data di inizio data di fine e la categoria se l'utente non ha messo queste tre informazioni chiaramente non potete calcolare un prezzo va da sé perché appunto non si sa quante auto sono disponibili e non si sa neanche qual è il tipo di auto che vogliamo quindi non c'è neanche il prezzo base più che prezzo zero che mi sembra proprio brutto scrivere zero io metterei anziché zero un'indicazione diciamo tipo non calcolabile non specificare ulteriori informazioni qualcosa di questo tipo eviterei di mettere zero meno uno queste cose che piacciono agli informatici ma dal punto di vista dell'interfaccia sono orrende nel senso andate su un sito per noleggiare una macchina non è che vi dice prezzo zero prezzo zero vuol dire te la regalo prezzo metti non disponibile non ancora calcolabile aggiungere specificare specificare almeno date e categoria qualcosa di questo tipo per non caricare il node modules basta non fare git add node modules si esatto se uno non fa l'add nel commit non vengono inclusi i file e quindi non verranno messi ok ho una domanda non relativa direttamente all'esame siccome va bene lo stesso siccome nei vari esempi mi sembra che i task vengano sempre caricati nella classe app mi chiedo se sia sbagliato un approccio nel quale le API siano chiamate direttamente all'interno di componenti che devono caricare ad esempio una determinata lista di oggetti la quale verrà a questo punto conservata nello stato del componente invece che in quello di app si va bene nel senso dipende da come vuol fare lei l'applicazione dove mettere lo stato è una di quelle cose che deve decidere lei e che è anche oggetto di valutazione ma tendenzialmente lo stato sta nel componente dove serve e lo stato va a finire nei componenti di livello più elevato solo se deve essere condiviso tra più componenti queste sono le regole generali che abbiamo detto nel momento in cui andiamo a fare un'applicazione appunto con react quindi va bene non è obbligatorio mettere in app in app noi l'abbiamo messo perché avevamo bisogno di condividerlo con altri componenti se per caso nel laboratorio si poteva mettere un componente di livello più basso allora forse avremmo fatto meglio avrebbe fatto meglio Alberto nel fattore di soluzione metterlo in un componente di livello più basso andrò a vedere però diciamo di per sé non è un cioè l'importante è che non sia duplicato ecco duplicato questo no perché duplicare l'informazione non va bene non è una best practice e non è ed è un qualcosa che probabilmente ci tira dietro dei problemi dei bug eccetera ora ogni tanto la differenza tra mettere lo stato in un componente un componente di livello superiore un po' sottile non diciamo non è quello penso che farà la differenza sul sul progetto finale no questa potrebbe essere per esempio una di quelle tipiche cose che finisce per essere discussa l'esame mi ha messo lo stato su app con la lista delle macchine ma perché non l'ha messa che sono il configuratore adesso dico così senza aver pensato all'applicazione ce l'ho spiegato l'ho giustificato l'avevo messa nel configuratore ma poi l'ho tirata su perché avevo pensato di fare un altro componente che poi però alla fine ho tirato via però ho visto che alla fine non cambiava niente e l'ho lasciata lì va bene insomma è una risposta accettabile non stiamo facendo un'applicazione appunto grossa come facebook dove se tutto viene messo nel componente livello più alto non si capisce più niente ok io ho messo un bottone sul calcolo del preventivo che solo quando si hanno compilato tutti i campi risulta cliccabile e mostra un div con i dati richiesto va bene come soluzione oppure ad agganciare a non change dei vari campi eh no non va bene nel senso che l'abbiamo chiamato interattivo no e quindi così ha fatto una pagina di configurazione preventivo che non non è interattiva no quindi da questo punto di vista non va bene perché perché appunto allora facciamo facciamo un'applicazione vecchio tipo non la single page application no cioè la single page application quando ha bisogno di qualcosa va a chiedere al server ci aggiorna l'interfaccia va bene e poi interagisce col server per dire ok vai a fare le operazioni quando c'è necessità magari a fronte l'input dell'utente voglio acquistare voglio noleggiare e allora va bene ho bisogno del click dell'utente perché se l'utente non decide io non è che posso fare io se invece l'utente clicca per configurare io posso aggiornare quindi questo va fatto quindi si c'è da agganciare non change i vari campi come abbiamo visto nei form e lavorare un po' su quegli aspetti certo quindi nel caso di un contatore per le auto dello stesso modello per raggiungere il numero indicato nella traccia devo considerare la somma dei contatori o il numero dei record no allora le le auto a disposizione sono auto cioè questo è un concetto no cioè un'auto è un'auto che poi lei le abbia aggregate nel database o non le abbia aggregate sono tutti fatti suoi deve fare un calcolo che dica quante sono le auto cioè se io in garage ho 30 auto e sono tutte non so sono 20 panda e 10 500 non è che io posso dire ma ti dico che ci sono due auto perché perché ho due righe nel database cioè le auto sono 30 perché in garage ho 30 oggetti auto poi come le ho memorizzate come le ho gestite sono diciamo fatti di chi sviluppa l'applicazione penso per comodità se lo ritiene comodo vuol mettere un numero di auto quindi un numero di diciamo così di 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 cosa è scritto da questo contatore e c'è un'unica riga nel DB per ogni auto dello stesso tipo può farlo onestamente secondo me sembra più complicato però dipende nel senso ognuno può fare come si trova meglio l'aver prenotato con successo per tre volte porta il 10% di sconto soltanto sul prossimo noleggio anche sui successivi no su tutti i successivi perché perché io in memoria ho il fatto che ho noleggiato tre volte quindi se quella è la quarta ho lo sconto se è la quinta ho lo sconto e così via quindi dopo aver noleggiato con successo tre volte sì forse potevamo scrivere un po' meglio tre o più volte va bene qui c'è scritto più di tre noleggi che è l'indicazione che vi davo ok era per sapere se voleste proprio un determinato numero di record sull'appunto di entità auto ma secondo me è meglio avere un auto per ogni cioè una riga per ogni auto nel database poi fate come rete nel senso che appunto è una vostra decisione a noi interessano le auto dopo aver effettuato il login deve essere mostrata una versione utente logato della home page con root slash oppure manteniamo due pagine distinte per utenti logati o no come volete decidete voi la root decidete come organizzare l'applicazione fa lo stesso nel senso noi vorremmo solo quello che c'è scritto quindi gli utenti non autenticati arrivano sul sito e possono fare questo giro diciamo navigare tra i veicoli quindi vedere che veicoli ci sono una volta autenticati gli utenti vanno sulla pagina in configurazione interattiva se gli utenti autenticati possono navigare anche loro sull'insieme dei veicoli oppure se restano solo sulla pagina interattiva per tornare a quella di prima devono sloggarsi eccetera fate voi non c'è scritto fate quello che ritenete opportuno ed è anche il motivo per cui vorremmo quel file read me quindi in cui c'è scritto cosa avete fatto perché così guardandolo da soli senza la vostra presenza daremo un'occhiata al file read me capiamo come l'avete organizzato e poi andiamo a usare l'applicazione quindi appunto magari non troviamo qualcosa non riusciamo a capire dove avete messo certe cose leggendo i read me con le root diciamo ah ma forse allora dovevo logarmi per poter vedere quell'altra informazione oppure no c'è la pagina x però la pagina x chiaramente deve essere accessibile nella navigazione magari in combinazione non so non abbiamo visto il link andremo a cercare meglio il link perché dovrebbe esserci la possibilità di andare su quella pagina che voi listate nel read me però come organizzare l'applicazione è a discrezione vostra no quindi dovete decidere voi come fare ok per l'applicazione dei filtri invece di avere tutti i veicoli filtrare client side filtro server side basandomi sui parametri della query perché secondo me questo è l'approccio utilizzato nella realtà mi rendo conto che ci saranno più di queste verso il server devo cambiare fare filtraggio client side ma no direi che è accettabile l'unica cosa vi inviterei solo a non esagerare nel pensare l'approccio usato nella realtà nel senso che appunto nella realtà io sono lì e magari appunto posso scegliere il modello nella realtà sono lì e posso posso fare tutta una serie di cose che magari si possono anche fare in questo progetto però vi complicano e sono in più non vorremmo solo che adesso non è questo il caso perché qui è solo decidere se uno vuole caricare tutta la lista e fare il filtraggio oppure farlo fare al server secondo me va bene anche il server in questo caso in effetti è vero nella realtà probabilmente non è che l'applicazione carichi alle 10.000 auto a disposizione del sistema di noleggio e poi c'è le filtra client però non è che dobbiamo diciamo prendere quello come modello perché ci saranno delle cose che se le volessimo fare come nella realtà ci complicano tanto quindi l'importante è che non ci sia come dicevamo cioè un un bottone in cui ho fatto un click su un check per dire voglio la categoria B e poi devo fare un bottone submit eccetera perché quello diventa un'applicazione normale non più una single page application cioè quando è possibile la la single page application deve andarsi a prendere informazioni dal server se è necessario di prendere informazioni dal server e visualizzarle quando è richiesto un'interazione dall'utente è diverso se l'utente deve acquistare deve noleggiare è chiaro che deve aspettare che prema il bottone di noleggio deve cancellare qualcosa deve fare qualcosa è chiaro che deve aspettare l'utente però il resto deve funzionare da solo per gestire lo stato dell'auto noleggiata disponibile l'auto torna disponibile al termine di un noleggio questo cambiamento di stato viene gestito dal server o direttamente dal DB dunque l'auto è disponibile cioè se non è noleggiata è disponibile perché deve esserci un cambiamento di stato nel senso che io sto interagendo il giorno X all'ora X con il server le auto che ci sono sono o noleggiate o disponibili no? quindi se la sua preoccupazione non so se la interpreto correttamente poi se vuole può anche usare la voce e parlarci però se la sua preoccupazione tengo l'applicazione aperta per tre giorni e diciamo e nel frattempo qualcuno ha finito di noleggiare è una preoccupazione diciamo così eccessiva no? io l'applicazione la apro e la uso per un po' no? ma non è che mi aspetto che stia aperta in continuo e quindi automaticamente qualcuno poi mi mi aggiorna la lista aggiungendo l'auto che nel frattempo è stata restituita perché è passata la mezzanotte e così via quindi quella è è una preoccupazione eccessiva deve invece preoccuparsi del fatto che noleggia l'auto cioè vuole noleggiare un'auto per il giorno da A a B e in quei giorni l'auto ci sia punto quindi spero di aver risposto alla sua domanda interpretandola correttamente se no ci riscrive oppure può parlare ho un'ulteriore domanda riguardo l'aumento del prezzo nel caso di poca disponibilità di auto se il controllo di disponibilità va fatto su tutto il periodo del noleggio ci sono più giorni in cui la disponibilità di auto è sotto il 10% e l'aumento del 10% deve essere fatto una tantum sì una tantum ovvero basta che ci sia un giorno tra quelli del periodo di noleggio in cui la disponibilità è bassa va aumentato tante volte per quanti sono i giorni per cui la disponibilità risulta sotto il 10% no no una tantum una tantum quindi se no non legge 100 giorni la paga la paga non lo so il 10.000% in più non lo so no no è una tantum come tutte le altre cose e quindi ognuna di queste è una tantum quindi non c'è niente che è relativo al numero di giorni tranne il prezzo base ok se si verifica più di una condizione che modifica il prezzo bisogna riferire gli aumenti percentuali al prezzo base al totale e fa lo stesso l'abbiamo scritto nelle risposte alle FAQ comunque guardiamo questo esempio se sono un guidatore frequente perché viene allo stesso risultato e ho diritto al meno 10% poi scelgo una macchina da 80 euro con guidatore addizionale più 10 il prezzo totale deve essere 80 meno 0,1 per 80 più 0,1 per 80 oppure 80 meno 0,1 per 80 più 0,1 per 80 meno 0,1 per 80 cioè calcolato sul precedente e la seconda perché perché così indipendentemente dall'ordine con cui applica gli sconti e gli aumenti viene sempre lo stesso risultato ok quindi non devo sommare le percentuali se no non viene lo stesso risultato devo applicare ogni volta lo sconto o la o l'aumento quindi andiamo a vedere anche sulle facche così questo è in effetti importante per ricordarselo ma l'abbiamo mi sembra che ci sia ecco ecco la maniera più semplice è prendere il prezzo giornaliero e moltiplicarlo per questo fattore quindi 1 più la percentuale diviso 100 quindi nel caso del 10% in più verrà per 1,1 nel caso del 5% in meno viene 1 meno 5 diviso 100 cioè per 0,95 e così via basta che fate le moltiplicazioni per ognuna dei fattori che influenzano il prezzo e così viene sempre lo stesso risultato che lo fate prima lo fate dopo perché tanto è solo un insieme di moltiplicazioni e l'ordine non conta quindi nel suo esempio è non è la modifica sempre sul prezzo base ma la modifica sul nuovo prezzo calcolato ogni volta che è equivalente a fare questa operazione che abbiamo descritto qui nelle risposte così tutti arriviamo sempre allo stesso prezzo ok per i chilometri dei giorni illimitato significa che dobbiamo far sì che l'utente possa cliccare su illimitato oppure inteso che dopo 150 km al giorno c'è un aumento del 5% e basta vado a prendere il testo deve vedere lei come vuole implementare il form no? siccome dunque queste sono sono tre condizioni di cui una deve essere vera no? quindi lei può decidere di usare che so cioè proprio banalizzando no? mettiamo tre condizioni con un radio button e devi per forza scegliere una dei tre quindi meno di 50 meno di 150 o illimitati oppure mette una checkbox con il numero di chilometri oppure mette due checkbox una per il 50 e una per il 150 però poi deve assicurarsi che alla fine il sistema sia coerente cioè se io clicco non posso cliccare insieme illimitati e meno di 50 e comunque devo fare una scelta quindi lì deve decidere come come vuol far lei dal punto di vista del prezzo se non scelgo né meno di 50 né meno di 150 devo aggiungere il 5% punto però è un è una cosa che stabilite voi cioè stabilisce l'utente scusate quando quando non legge io so che farò più di 150 chilometri e e quindi vabbè mi fanno pagare 5% in più e questo è il prezzo deve essere data la possibilità di inserire il limitato sì in qualche forma sì che sia nel non selezionare il limitato o che sia selezionare una casella dove c'è scritto il limitato però di nuovo decidete voi la lista delle auto nel db è fissa se così fosse i filtri per marca nella pagina dei non logati sono anche fissi o li creiamo selezionabili a runtime a seconda delle marche disponibili al momento nel db no io direi di crearle a runtime a seconda delle marche disponibili al momento nel db cioè il fatto che sia fissa forse da qualche parte mi ha scritto che nelle facche che è fissa però non vuol dire che dobbiamo risolvere l'esercizio come se diciamo cioè rifacendo il programma solo perché abbiamo aggiunto una nuova una nuova marca no cioè è un po' è un po' il problema a base della programmazione allora cerchiamo di trovare un buon compromesso tra la semplicità ma anche la riusabilità del nostro codice cioè è come quando a fondamenti di informatica uno risolve un problema che non so è un vettore di 5 elementi e si mette a fare 45 if per trovare fuori tutti i casi se poi il vettore però diventa di 6 deve rifare il programma cioè non è questo il senso col quale scriviamo i programmi carichiamo la lista delle macchine dell'altabase poi tiriamo fuori le classi e sulla base di quello creiamo l'interfaccia le classi le categorie e i come si chiama i marchi cioè non è che perché aggiungiamo una nuova macchina con un nuovo marchio dobbiamo chiamare il programmatore a rifarci il programma cioè non ha senso una cosa di questo tipo quindi cioè noi abbiamo detto che la lista è fissa diciamo per non introdurre troppa complicazione nel senso che nel momento in cui uno carica l'informazione nel database non è che deve continuamente andare a vederne nel database se le cose cambiano però appunto cioè che questa informazione venga caricata e l'interfaccia venga creata di conseguenza non è che perché appunto è spuntata la ferrari devo andare a chiamare il programmatore a dirgli di scrivermi ferrari in più ho scritto nel database ferrari e verrà fuori quello che vi proponiamo di fare in questi casi è di fondamentalmente scrivere poi due righe nel javascript nel senso che fate un array di tutti i marchi avrete una funzione cercate online con il set eccetera c'è già anche dentro javascript le fate diventare univoche quindi un solo elemento e avete la lista dei marchi finito cioè due righe e se volete farlo in maniera un po' più criptica addirittura una riga sola di javascript quindi non è un non è un problema quindi intanto il professor Colony ha risposto su un paio di domande adesso si vede che ha avuto un attimo di pausa nelle domande quindi per il filtro selezionato quindi dicevamo quel filtro catalogo eccetera dove l'abbiamo no se non l'abbiamo più messo era vabbè non lo riscrivo quindi chi mi aveva scritto catalogo opel più più fiat più eccetera eccetera sì è vostra scelta memorizzare se memorizzare sedi filtri nelle root o altrove quindi metterlo diversamente per quanto riguarda l'interfaccia risoluzione mobile quindi sul cellulare diciamo a dimensione ridotta richiediamo solo la versione desktop se è responsive bene ma non è un requisito quindi lo scriveremo poi nelle FAQ quindi se restringiamo il browser se si comporta bene bene però non è un requisito di nuovo sta a voi non è non è una cosa che è da punto in più per quanto riguarda il numero dei veicoli rimasti in garage forse qui però non mi sono stabilito bene con lui quindi al momento in cui si fa la prenotazione questo si si calcola se ci sono meno del 10% di veicoli rimasti però non ci siamo intesi sul fatto che se era per singolo giorno devo fare la verifica cap per singolo giorno di giorno a o e giorni o no tempio diciamo che quindi paro un un and un 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 tutto si applica ok ora ho riformulargli la domanda così abbiamo una risposta più precisa quindi leggo domande successivi io ho messo un type number fare il controllo che number maggiore di 150 va bene per calcolare il più 5% diciamo che ha interpretato le specifiche dicendo che sta chiedendo all'utente di dare una stima dei chilometri percorsi al giorno penso che vada bene nel senso l'importante è che appunto se uno mette un valore al di sotto di 50 venga fuori meno 5% se al di sopra di tra 50 e 149 non cambia il prezzo e se 50 e 50 sopra cambia il prezzo e va più 5% direi di sì diciamo si può fare come scelta tre appunto tre opzioni esclusive oppure come campo con numero di chilometri direi di sì nel form non vengono richiesti i chilometri totali presunti da percorrere lungo tutto il periodo del noleggio e dipende da come vuoi scrivere il form si può anche fare così nel senso l'importante è essere chiari cioè se c'è un campo devo scrivere un numero devo sapere cosa vuol dire quel numero no? se io ci scrivo già è una scelta esclusive ci scrivo già meno di 50 chilometri al giorno ho già risolto il mio problema qui non è che stiamo chiedendo di darci una stima dei chilometri totali che intendi percorrere si può implementare anche così però diciamo non è è a libera scelta quindi calcolo di chilometri al giorno dovrebbe essere una cosa interna quindi nel form dovrebbe essere mostrata la scelta diciamo è a libera scelta questa cosa del se un calcolo interno non dovrebbe essere mostrata la scelta minore 50 minore 150 50 o no nel senso diciamo di nuovo dovessimo fare un'applicazione vera bisognerebbe chiedere al nostro cliente ma tu vuoi far sapere che al risultato di 50 chilometri fai lo sconto o no quindi vuoi che ci sia scritto 50 chilometri a qualche parte dell'interfaccia oppure te lo fai tu il calcolo e all'utente spunta solo il risultato non abbiamo detto niente potete fare come volete quindi è una scelta di come uno vuole implementare l'applicazione va bene qualsiasi meccanismo direi la versione finale del tema d'esame che verrà caricata dopo questa video chat conterà delle specifiche ulteriori non le chiamerei ulteriori chiamerei chiarimenti nel senso che tipo in realtà se non ci sono chiarimenti particolari ecco io potrei potrei suggerire per esempio di scrivere per tre volte per almeno tre volte giusto per essere coerenti con quanto c'è sotto no però voglio dire sono modifiche minori non è che ci sarà un pezzo in più di specifica cioè una nuova regola nella tabella prezzi ecco questo no assolutamente perché cioè se no voglio dire uno organizza le cose ha già cominciato a pensare ha fatto dei ragionamenti ha avuto dei chiarimenti ecco avessimo sbagliato qualcosa e ci fossero due due requisiti in conflitto bene chiaramente andrebbero risolti per fortuna non ci sembra che sia questo il caso ecco forse si può si può giusto precisare un po' meglio non so che il prezzo del noleggio si può calcolare anche se sembra oramai abbastanza chiaro no? però si può calcolare solo nel momento in cui si conosce la categoria dell'auto data di inizio e dato di fine altrimenti bisogna non si può dare un prezzo cioè sono più che altro precisazioni no? non specifiche ulteriori allora vado a vedere il professor cosa mi dice ecco qui abbiamo due idee diverse sulla questione delle auto disponibili quindi io conterei quante auto sono disponibili il professor mi scrive conterei quante auto sono disponibili per tutto il periodo non farei il minimo perché vorrebbe dire che a metà noleggio magari devi cambiare l'auto quindi per esempio se uno noleggia per tre giorni consecutivi quante auto sono disponibili per tre giorni consecutivi giusto io si starei con la sua interpretazione a questo punto quindi quindi questo io gli direi di sì quindi direi di stare con la sua interpretazione quindi in realtà io prima ho detto cerchiamo il minimo del numero di auto disponibili per ogni giorno quindi stiamo parlando del calcolo del meno del 10% dei veicoli rimasti nei giorni del noleggio in realtà per tutti i giorni del noleggio quindi se io volessi fare un noleggio per le stesse date di inizio e fine quante macchine ci sono a disposizione no? che è diverso dal calcolare il minimo di auto in garage per ogni giorno e in effetti è vero quello che dice il professor corno ha più senso la prima interpretazione perché se no vuol dire che appunto mi chiedono di cambiare auto a metà magari perché è vero che ci sono ma magari ci sono perché uno ha smesso e ha restituito un'auto ok quindi forse è anche più semplice l'interpretazione sua quindi io data di inizio data di fine vado a vedere quante macchine ci sono disponibili tra quella data di inizio e data di fine quindi più facile si può consentire ad uno stesso utente di effettuare più di un noleggio di macchine diverse nello stesso periodo di tempo direi di sì mi sembra che l'abbiamo anche scritto nelle fac alla fine voglio dire se volete noleggiare due macchine potete diciamo così se le pagate però qui la pagamento è finto quindi avete soldi infiniti guardavo se c'era la risposta da qualche parte dovrebbe esserci mi sembra forse era non era lo stesso periodo ma era in periodi sovrapposti quindi le domande però ehm non è non la trovo più ah eccolo qua l'utente X era nell'italiano può noleggiare una macchina dal primo al 10 e dal 5 al 14? si quindi sovrapposti e quindi anche uguali quindi si sempre mettetevi sempre nell'ottica del semplificare questa dovrebbe essere la soluzione più semplice ho un controllo in meno da fare basta che ci sono i soliti controlli la macchina è disponibile eccetera però non mi interessa se ne ha già un altro sono fatti i suoi se no è un check in più che devo fare ok quindi se avete ulteriori dubbi o domande direi visto che l'ultima lezione è su qualsiasi cosa e quindi anche su su aspetti che magari sono stati poco chiari nelle lezioni, nei laboratori c'è qualcosa che non avete capito eccetera anche non solo dell'esame a questo punto visto che abbiamo già passato parecchio tempo sull'esame mi sembra che non vedo domande ecco avete poi comunque sempre il canale Slack sul quale rispondiamo per queste domande credo che da un lato è normale che nel momento in cui implementate diciamo la soluzione del del progetto magari a un certo punto vi rendete conto che c'è qualcosa che non vi è del tutto chiaro vi invito per prima cosa a verificare se qualcun altro ha già fatto la stessa domanda per evitare di creare tanto traffico di domande perché poi finisce che ci si aspetta che tutti abbiano letto tutto e quindi se ci sono cose duplicate diventa più pesante per tutti se però c'è un dubbio effettivo che non abbiamo chiarito scrivetelo sicuramente quindi non vedo altri dubbi o domande ok c'è una domanda non sono richieste dipendenze su chiavi esterne vari on delete eccetera nei db vero? no nel senso se le volete usare le usate se non le volete usare non le usate fate come desiderate come vi viene comodo io personalmente a me personalmente non piace demandare troppa logica applicativa al database ma più che altro perché poi finisce che non si sa più dove è che sta la logica dell'applicazione però non è che ci interessa lato serve come sapete non è l'obiettivo principale del corso quindi l'importante è che funzioni funzioni secondo la logica che abbiamo chiesto poi dato che qualche componente l'abbiamo installato col parametro meno meno save non potrebbe risultare falsato il test sull'npm install per l'ultimo check se tutto funziona no il meno save dovrebbe semplicemente salvarlo nella cartella corrente giusto? quindi per dire è una questione di versione non credo nel senso onestamente non ci aspettiamo che usiate chissà quelli moduli npm no quindi no c'è il meno g meno g lo installa globale sì questo sì e e e e quindi se ce l'avete globale non non serve più nel package json e quindi e quindi se anche non è nel package json è però a disposizione quindi questo questo in effetti sì sì bisogna fare un po' attenzione quindi tendenzialmente non installate nulla di globale l'unica cosa che abbiamo fatto vedere che si installava globale era il node mon no però in realtà il node mon serve più che altro a voi per lo sviluppo perché in realtà lanciare con node o node mon è la stessa cosa node mon semplicemente se cambiamo un file rilancia il server da solo tutti gli altri pacchetti npm li abbiamo installati senza meno g quindi quindi che sta per globale e quindi appaiono nel package json e quindi quando fate npm insta dovrebbe riscaricarveli o meglio ri inserirveli in node mon perché poi lui non va a riscaricare tutto se ce l'ha già scaricato però questo è trasparente per voi quindi tendenzialmente non installate pacchetti globali oppure se volete stare sicuri sicurissimi fate una nuova avm fate un docker non lo so fate qualcosa in cui non c'è node installate installate node e poi scaricate la vostra applicazione e fate npm install e poi se va va se no vuol dire che c'era qualcosa di globale che non è incluso nel package json però diciamo che noi ci aspettiamo appunto che ci siano i moduli che avete visto fondamentalmente nell'ultimo esercizio di laboratorio nell'ultimo esempio quindi lato server ci sarà express jvt c'è il validation cioè questi pacchetti standard che insomma difficilmente creano dei problemi ecco magari date fate un confronto tra il package json vostro e il package json degli esempi che abbiamo fornito e se vedete un pacchetto che non che è usato ma che non avete nel vostro package json lo aggiungete questo per quanto riguarda il server sul client fondamentalmente c'è da mettere il react router router e react boostrap se lo volete usare e non so che altro insomma quindi non possiamo numerare le domande si si va bene proviamo a farlo lo segno così così si così è più facile ricordarsi se è stato aggiunto qualcosa o no cioè vedere se è stato aggiunto qualcosa o no dovrebbe essere possibile anche vedere forse no forse non è possibile senza vedere la isa non c'è la cronologia versioni da non autenticato ok grazie per il suggerimento ho una domanda su un warning che compare quando apro un model con react boostrap ho cercato su internet ma non sono venuto a capo il warning è questo finddobnode is deplicated in strict mode suppose an instance of transition which is inside strict mode instead add directly to the element we want to reference in strict mode quindi quindi e dobbiamo devo cercare anche io perchè non è che abbiamo diciamo tutto so e e ok ok dunque questa cosa viene fuori warning app quando ti compare quando apro un modal magari si ha voglia di mandarmi per email il codice però guardarlo con un po' più di calma può darsi anche che ci sia qualcosa che deve essere aggiustato nella libreria react bootstrap essendo solo un warning se la prendono con calma e magari diciamo la giusta non è la prossima versione io non credo che voi abbiate bisogno di usare il modal in questo progetto per cui non lo vedrei come come critica ecco è chiaro che abbiamo scritto da qualche parte nelle fac di tipo generale sull'esame che sarebbe bene che non uscissero warning nella console sicuramente non desideriamo vedere warning del tipo accedo ad una variabile undefined e cose di questo tipo nel vostro codice però se vengono fuori dei warning del tipo anche perché quello è più più che altro un erro se vengono fuori warning appunto causati da queste librerie esterne standard come react bootstrap eccetera e non sono causati da un utilizzo sbagliato del diciamo del componente e così via e boh conviviamo con questi warning non è non è un problema ecco vi ho fatto vedere l'ultima volta nell'ultima lezione l'esempio di di come eliminare un warning su use effect perché era quello che volevamo e quindi lo sappiamo c'era un modo di eliminarlo l'abbiamo eliminato e se no vabbè avremmo anche potuto lasciarlo lì però era il modo corretto di usare il diciamo la funzionalità non vogliamo solo che vengano fuori appunto delle cose nella console che sono dovuti ad errori di programmazione ecco questo questo no quindi se per ora è una soluzione temporanea mi piaceva vedere il model che si mostrava con la root login ora le mando il codice grazie ok perfetto così me lo guardo ci fosse qualcosa appunto di interesse di tutti e non è magari un suo sbaglio di qualche cosa banale lo diciamo lo diciamo a tutti cerchiamo sempre la strada meno complicata di fare le cose soprattutto per voi nel senso che penso abbiate anche altri esami da gestire quindi meno tempo ci mettete a fare il progetto che rispetti le specifiche e faccia solo quella meglio è una domanda sull'ultimo laboratorio l'API isa authenticate controlla solamente se il cookie se esiste ancora nel caso ritorna le credenziali dell'utente allora andiamo a vederlo quindi questo penso si riferisca al server quindi ci sarà l'API isa authenticate sarà nel DAO onestamente non ho guardato l'ultima versione del codice quindi se si ricorda in che file è lo scrive mi fa un piacere se no API lato client API lato client non può controllare se il cookie esiste è per quello che la cercavo nel server il client non ha accessibilità al cookie perché il cookie l'abbiamo fatto HTTP only almeno salvo che non ci sia qualche cosa task server perché mi scrive task server SRC outcome out questo è il context forse era in tasks mi sente? si 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 no si ok l'API era lato client ma mi riferivo che poi veniva a quella che chiama lato server cioè questa qui allora is authenticated si questa è quella lato client si mi riferisco a quella che chiama lato server io ce l'ho in task server si e quella API user come API si ok quindi chiamo lato server e quindi sul lato server mi ha detto task server quindi la root user task public user ok quindi diceva controllo solamente se il cookie esiste ancora e nel caso ritorno alle credenziali dell'utente sì penso che quindi lui allora ha messo nel token jvt entrambe le cose user user id questo è quello che ha messo nel token ah no no viene viene fatta una query sul database no quindi get user by id lui prende user no che è quello che estrae dal token perché rec user è ciò che viene estratto dal token ok cioè rec user è equivalente a quello che io in fase di login ho inserito nel token cioè questo oggetto user due punti user id prendo questo oggetto lo passo al get user by id se tutto ha successo mi ritorno una promise che quando è risolta mi da come valore questo user che contiene id e name e io lo restituisco come risposta del body della mia ipi no il fatto che il cookie esista ancora è implicito è implicito nel fatto che io ho detto prima di usare il middleware jvt quindi tutte le root che vengono dopo questa istruzione app use del jvt chiameranno il jvt e il jvt controlla che esista il token jvt che noi abbiamo detto di mettere cioè abbiamo messo anzi abbiamo messo nel cookie qui quando abbiamo fatto l'autenticazione e abbiamo detto di andare a recuperare il cookie passando questa funzione al jvt su come recuperare il token ok quindi tutte le api che vengono dopo questo app use è come se qui ci fosse scritto jvt virgola jvt virgola se noi lo mettiamo in app use si applica tutto quello che c'è dopo quindi andrà sempre a cercare il token se non c'è il token ci dà l'errore no e l'errore si ok ma quindi dato che lo fa in compranded mount se il cookie è scaduto e quindi non esiste più dall'errore di autenticazione e obbliga l'utente a rilogarsi quindi però il controllo che il cookie esista con quel controllo lì si controlla che il cookie esista e in più nel momento in cui esista mi faccio dare anche il nome dell'utente semplicemente perché non visualizzo l'id ma il nome dell'utente ok quindi in questo modo se io ricarico la pagina e mi ero loggato non ho bisogno di riloggarmi se il cookie non è già scaduto a livello temporale esatto esatto ed il jvt è ancora valido però se l'ho imposto alla stessa scadenza diciamo non c'è problema in questo senso e poi avevo sempre una domanda su nel component mount non ho capito cosa cioè non so da dove l'istruzione this props history push allora in app e questo questo va semplicemente aggiungere un diciamo una una nuova pagina nella lista delle history del browser quindi se quindi diciamo è un modo per farla redirect quindi va adesso questa questa non l'avevo vista se no gli dicevo di non usarla però va bene va bene diciamo è un modo alternativo di fare la redirect noi abbiamo sempre visto diciamo il componente redirect di react router e quindi ci stiamo uno stato sulla base di questo stato nel render andiamo a fare l'operazione redirect quindi se if questa cosa che mettevamo nello stato è vera facciamo redirect else tutto il resto questo è un modo alternativo forse diciamo più veloce se non ci sono troppe cose da fare quindi fondamentalmente dice di cambiare pagina e di andare su login ok ok ci sono tantissimi modi per fare la stessa cosa da un lato credo che sia anche un bene che ci sia in questo caso c'è Alberto che appunto aiuta sul corso in inglese che faceva le soluzioni quindi ogni tanto prende dagli esempi che avevamo fatto ogni tanto faceva un po' più per conto suo e così avete visto anche qualcosa di un po' diciamo così diverso dall'esempio fatto in un'unica maniera che poi sembra la maniera diciamo ci sono vantaggi e svantaggi nel fare questo genere di operazioni in questo caso fondamentalmente la stessa cosa non possiamo spiegare proprio tutto e non credo che avrebbe neanche senso mettersi lì a spiegare tutto quello che succede in React eccetera anche perché appunto una volta che uno ha imparato un po' i meccanismi dovrebbe essere in grado di andare un po' cercare per conto suo quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni per esempio banalmente se uno mette su google this prop history push va a vedere non so versus redirect versus bu qualcos'altro o why it is used non so mette qualcosa di questo tipo troverà probabilmente nelle risposte a qualche domanda tipo su questi siti come stackoverflow e così via qualcuno che dà una spiegazione ora non è che voglio sottrarmi al darmi una spiegazione però non è anche che io sappia tutto nel senso nel momento in cui faccio le cose pubblico una cosa io chiaramente ho idea di quello che ho fatto nel momento in cui vedo il codice di qualcun altro non è detto che sappia per forza tutti i dettagli del codice che per me è nuovo ogni tanto e quindi se vi capita andate andate a cercare ecco perché è una cosa che tra l'altro vi capiterà diciamo sicuramente in ambito lavorativo da qualche parte cioè difficilmente vi danno carta bianca partite da zero fate create react app e cominciate a scrivere probabilmente si lavora su un progetto già già partito no? quindi e quindi c'è da interpretare quello che è stato fatto e ognuno avrà la sua idea e modo di fare le cose l'importante è riuscire a capire se se ci perdiamo qualcosa di importante avremmo dovuto fare diversamente oppure si può usare anche questo tipo di approccio in questo caso appunto dovrebbe essere semplicemente un modo diverso per fare le redirette quindi molto molto banale e se vogliamo forse anche più semplice quindi abbiamo fatto vedere il router l'importante è che nel progetto dell'esame ci siano delle pagine direi 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 che non è il caso cioè poi come fate il dettaglio la redirette se c'è bisogno di una redirette eccetera è un po' più un dettaglio e potrebbe di nuovo essere un argomento dell'orale no? nel senso ci sarà chi usa il componente redirette di reactroot ci sarà chi usa il appunto history push eccetera l'unica cosa per favore all'orale ma come abbiamo già scritto non vogliamo sentire dire la spiegazione ma l'ho visto su un sito e poi andava cioè vorremmo sapere perché va quindi se usate un qualcosa da qualche parte incluso i nostri esempi stiate coscienti del perché funziona e del che cosa fa no? ovviamente se uno vuole il massimo no? eh chiaramente deve sapere bene tutte le cose poi per carità se uno mi dice che so ma sì lo aggiungo all'history quindi ho visto che alla fine mi portava su quella pagina va bene no? va bene nel senso che ok sa che cosa stava facendo diciamo e va bene così se uno appunto viene da chiedere ma perché non è un redirect ma perché ho usato questo sistema anziché fare redirect ecco se mi risponde perché non lo so perché l'ho visto sull'esempio e sull'esempio si faceva facendo tutti così è un discorso e mi dice ma perché in realtà per fare redirect con il componente del react router mi serve uno stato in più eccetera solo per far quello quindi di fatto mi sto complicando la vita perché vado a creare uno stato solo per fare questa operazione quando ho visto che alla fine è la stessa cosa fare in questa maniera ecco è una risposta di una persona che è un po' più diciamo che è stata un po' più attenta a quello che ha fatto no? ed è sicuramente preferibile e sarà qualcosa che dà un voto probabilmente migliore per quello specifico aspetto ho visto che tutti fanno così diciamo va bene nel momento in cui le soluzioni sono equivalenti mi conformo al fatto che le soluzioni sono sono equivalenti allora faccio quello che fa la maggior parte però nel momento in cui non sono del tutto equivalenti magari potrei anche provare a capire come mai per esempio se uso redirect bisogna di qualcosa da mettere nelle link per decidere se faccio un redirect o no col componente redirect del router quindi c'è già un qualcosa di non equivalente posso decidere di utilizzarlo o no se è ragionamento corretto e spiegato va benissimo ok se non avete altri dubbi domande forse possiamo chiudere qui io appunto ho ricevuto da il professor corno questa risposta ve l'ho già detta che è quella lì sul numero di auto se sono rimaste meno del 10% le auto devono essere disponibili per tutto il periodo e mi sembra ragionevole adesso se non l'ha già fatto lui aggiorneremo queste facche gli mettiamo anche il numero come ci è stato suggerito e comunque noi aggiungiamo sempre in fondo questo perché sennò appunto diventa un incubo capire se c'è qualcosa di nuovo non mi aspetto che ci siano novità sostanziali come detto non so se facciamo un micro ritocco al testo ma proprio appunto per chiarire queste cose che magari sono immerse che potrebbero essere scritte un pochino meglio aggiungendo una parola in più ma non ci sono specifiche differenti ovviamente ok non vedo ulteriori domande sulla chat quindi salvo la chat che non si sa mai e quindi direi mi ringrazio per l'attenzione ci sarà la registrazione sul portale la didattica adesso vedo se anche su youtube vedo un attimo come è stato fatto nel corso in inglese comunque di oggi uscirà questa registrazione ma tanto appunto per voi che ci siete stati fondamentalmente non so quanto può servire quindi vi ricordo ancora una volta se non l'avete già fatto di compilare il questionario cpd che è disponibile solo più fino a domani forse voi l'avete già fatto se sentite qualche vostro collega e non l'ha ancora fatto per favore ditegli di farlo perché è importante avere appunto il feedback per tutto il meccanismo di gestione dei corsi tanto più in questa situazione in cui abbiamo fatto i corsi remoti che è la prima volta e c'è il questionario adattato proprio a questa situazione e appunto per sapere come gestire almeno queste situazioni è importante guarda ancora un'ultima domanda che è comparsa sulla chat non trovo più il sito per creare password criptate da metter per il db nel caso mi può dire dove recuperarlo dovrebbe essere nel testo del laboratorio 10 ah ok qualcuno mi ha già risposto comunque cercate bcrypt bcrypt password penso che ne escano parecchi su google se uno non funziona ne provate un altro banalmente ma non diciamo o altrimenti usate la vostra api javascript però dovete scrivere del codice se invece abbiamo il sito facciamo prima tutto lì l'api ha anche la funzionalità per creare la password ok va bene grazie di tutto e spero che il corso vi sia piaciuto appunto fateci avere il feedback e e quindi ci sentiremo su slack diciamo in maniera più continuativa e nel momento in cui ci saranno degli avvisi importanti eccetera anche tramite l'email mandato tramite il portale alla didattica grazie e bocca al lupo per l'esame per chi intende sostenerlo al primo appello non è obbligatorio anzi appunto ci sono parecchi diciamo ci sono parecchi iscritti ecco pensate magari bene se volete in questo momento ci sono 99 studenti iscritti quindi vorrà dire che ci vorrà un po' di tempo se tutti consegnano il progetto per valutarli ecco tenete conto di questo aspetto grazie e a presto a presto